2, 1, vai Ciao ragazzi, il pomo è Nicolò Tamari, l'arte del Messie tipico ma vi dico una cosa, io siccome sono un cultore dell'arte non dell'arte, dell'arte, mi piace i film porno mi piace vedere i film, nasce Vidal, Rocco Tano, i freddi, sale Rocco Tano nasce Vidal uno spagnolo, poi mi piace Francesco Malcom poi mi piace Roberto Malone e Remigio Zamba ho visto una volta un film, ragazzi, sette culi per sette cappelle poi ho visto un altro film, la Vergine incinta e poi ho visto un altro film, il film era indiolato Biancaneve e sette nani, Biancaneve e sette nani il Messie di Dio vi saluta e vi dice arrivederci alla prossima puntata